Ho preso tutte le gnocche, prendo l'usana da su, tanto stasera non si tromba! Buonasera ragazzi, mi era venuto in mente una cosa importante, volevo chiamare tutti voi per fare gli auguri ma siete tutti molto impegnati e sarebbe stata solo una cottura di coglioni la mia telefonata ho preferito invitarmi a cena, pochi ma buoni adesso e poi facciamo festa, vediamo bene con Andrea Felici, sono delle gran belle donne abbiamo anche i fotografi che già hanno lotto i coglioni, ma andiamo avanti ringrazio tutti, non faccio nessun nome perché altrimenti siete tanti e non voglio togliere l'accento e l'ascosto su nessuno vi voglio bene, auguri di buone feste a tutti, auguri! Ancora grazie per l'applauso, per l'ordinario, l'organizzatore che per l'anno sarà praticata al Lidoi Logo e Civita Navamache, grazie, Luca Polorossi! Applausi, applausi! Avete riconosciuto tutta l'organizzazione, Giuseppe Cicchia e Andrea Girotti